La cara vecchia coda in tangenziale di Mestre, Betty? Eh, era un po' che non ce la... Facevamo! Ogni città ha il suo monumento, famoso, in tutto il mondo ne abbiamo la tangenziale. Eh. Grazie a tutti. Eccoci arrivati, dopo una passeggiata di un chilometro circa. Sicuramente un gran rocione dalla forma strada. Questa mattina siamo stati al ponte d'Ercole. E poi alla fine è un sassone fatto ad arco, teroso dalle forze naturali. L'acqua, il vento. Ed effettivamente è un vero e proprio ponte. Bello, anche se credevo che fosse molto più grande in realtà. Non è che sia gigantesco, eh. Ma dalle foto che vedi sui social, con questi grand'angoli, vedi questo pontone gigantesco. Le dimensioni sono un po' molte. Però, bello, sicuramente un posticino bello da farci una passeggiata, con i bambini. Il metto al bosco, proprio, proprio bello. E adesso ce ne torniamo verso il campeggio, però con le nostre sporciatoie. Il metto al bosco, proprio bello. Vabbè, è meglio il cerchio della caratteria. 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 Grandi, bravi Sì, acaao Sì, acaao Sì Sì, acaao Vai, sta salendo Sta salendo Vai, grita, grita così Così ancora ancora Adesso la policia tiene poco Vieni Dove sei che non ti vedo? Qua, qua, arrivo io Dai, tacca nel vericeo Dai, dai che ce la facciamo Dai che l'abbiamo fatto Metti il blocco A ora Finito E oggi torniamo a casa Ieri Tostarella Perché Noi andiamo in cerca di fare sempre Fuori strada Più o meno soft Però ieri di soft c'era parecchio poco Fatto fuori tutto sotto scocca Appoggiati su per le pietre Persi per spruzzi Però dai Per ora Danni zero Di quelli veli E adesso dove andiamo? Alle cascate del Bucamante Wow Questo è il sentiero per andare alle cascate Per ora Per ora Per ora Per ora Per ora Grazie a tutti. Grazie a tutti.